Siamo con Marcello Casale perché sabato e domenica prossimi al Palacaudium di Cervinara ci sarà una manifestazione regionale di rilevanza danza sportiva. Con Marcello andiamo a domandare una o due giorni come sarà la divisa e soprattutto perché Cervinara? Questo è un evento abbastanza importante. Diciamo che forse per la prima volta riusciamo ad avere un campionato regionale di danza sportiva. Abbiamo avuto già altri eventi per quanto riguarda la danza ma questo è decisamente più grande. Abbiamo una partecipazione totale di tutta la regione, sono campionati che poi permetteranno ai veri atleti di poter accedere anche a delle fasi interregionali, nazionali e eventualmente anche europee. Quindi c'è molto entusiasmo e c'è molta aspettativa da questo campionato. Perché Cervinara? Perché Cervinara col suo palazzetto si trova sempre in una condizione strategica. Prima di tutto siamo al centro un po' della campagna, quindi tutte le persone che poi provengono da Salerno, da Vellino, da Napoli, da Caserta, trovano centrale la nostra situazione. Poi ci siamo fatti conoscere, lavoriamo bene, abbiamo delle situazioni di gestione corrette, trasparenti. Quindi ci cominciano a voler bene e quindi anche le varie delegazioni sia di attività sportive come potrebbe essere dal Caret fino a tutte le altre. Oggi parliamo appunto di danza sportiva che comunque è un evento particolarmente importante e lo avremo sabato. Sabato in che senso? Noi avremo dalle 15 fino alle 18, 18 e 30 categorie che vanno dai 13 anni fino agli over 50. Quindi sarà un bello spettacolo vedere lo sabato perché avremo gruppi di ballo che vanno dal flamenco fino al tango, passando per il liscio. Gruppi che praticamente si sono addestrati con coreografie particolarmente spettacolari come il contemporaneo. Quindi avremo diversi gruppi fino ad arrivare alla domenica. La domenica è una giornata clou perché si parte alle 9 e mezza di mattina e si finisce alle 21 di sera. Ci sarà una grossa partecipazione di tutte le categorie, avremo eventi spettacoli, l'organizzazione monterà delle situazioni abbastanza spettacolari, quindi sarà bello vederlo. L'ingresso è gratuito ed è libero per tutti, quindi volendo tutta la popolazione può intervenire. Ovviamente ci aspettiamo un grosso interesse perché questo ha un grandissimo seguito, date che sono soprattutto bambini, adulti eccetera, che porteranno un bel po' di seguito. Un po' di pazienza per quanto riguarda il parcheggio perché purtroppo in coincidenza abbiamo anche l'area mercato che è impegnata con il circo, quindi non potremo utilizzare alla grande come siamo abituati a fare. Però comunque ci stiamo organizzando per poter avere tutto il paese che partecipa. Una comunicazione alle attività commerciali. Avremo sabato e domenico un flusso maggiore di persone. Vi raccomando di rimanere aperti, di poter essere accoglienti per quanto riguarda perché loro mangeranno, verranno da Napoli, da Salerno, da Caserta, Avellino, grossi flussi. Quindi avremo persone che dovranno fare colazione, caffè, dovranno mangiare e poi probabilmente anche una merenda di pomeriggio. Quindi stiamo all'ERTA e ospitiamo come meglio sappiamo fare perché ormai è consolidata la nostra capacità di accoglienza qui a Cervinara. Grazie a tutti.